Sa a caso o non so dove, il 4 di Pao Rezion e l'8 di Plutonio. Pao Rezion mi sa che ha fatto ritardo. Ottimo l'allineamento, completamento della piegata, prende velocità la macchina. Parte il Gran Premio Regione Campania 2013. Via la macchina! Come da copione, per amore gualla nei confronti di Prussia, in diagonale Paolo e Picone. Si va, tenta di rientrare Pic Cronos e Pic rientra all'avversario e lei va a parcheggiare a metà della piegata. Pic Pic al comando, 200 se ne vanno in 14 e così Pic a comandard o periscio. E Prussia non tarda a progredire, sarà un classico freeway di Pietro il Grande. E infatti Prussia, senza o quasi colpo ferir, 29.400, la Prussia al comando. Si va, all'attacco della seconda curva, con Prussia a menardanza. Tira già un po' i remi in barca il piccoletto Gubellini. 44.500 e si fa notare l'alternativa valida, Probo-P. Ed è di Moni, con il suo targato P, punta in avanti. Riparte la Prussia, si va al completamento del mezzo miglio, 59 scarsi. Prussia, Probo, Pic Pic, allargo anche Picone, lungo i birilli per amore Gual. Si va alla chiusura del primo chilometro, la Prussia lo può passare in 1.12.500. E cavalli che affrontano la penultima curva, l'andatura è sempre effervescente. Prussia, Pic Pic, Probo, per amore Gual. Picone, mezzo miglio alla conclusione, 14.7 ancora impiegata, niente male. Penultimo rettilineo con la Prussia leader, Probo al Salchi. Riparte la Prussia, prende nuovamente una di margine, 13.7 di fronte, si viaggia intorno al 1.12. Probo a qualche tentennamento, si fa rientrare da Pic Pic. Prussia in chiaro vantaggio, miglio 1.55. Se ne va la Prussia, e che Prussia questa Prussia? Eh sì, il piccolo diavoletto che ci ha dato, che ci presenta. Dispersione, applauso per la Prussia. Applauso per Pietro il Grande. Un ottimo Pic Cronos, mentre Probo è avvicinato da Papa Andreu. Papa Andreu, come quando vuole la Prussia, per il secondo Pic Pic, e terzi numero 13, Papa Andreu. Attenzione, 1.11.3, 1.11.3, ancora record polverizzati. Ma tutto il merito va a Pietro il Grande, che saluta con il dito, e noi ci accomuniamo al suo saluto. Veramente, very, 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 very good. Go, 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 baby, go, per Prussia, lavatore, che lo sappiamo chi è, la Sant'Andrea, il proprietario, Rantanen, e Papa Gubellini. Linea alla regia.